Un'idenza è grande, un'idenza è unico para me, un'idenza è grande, 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 e le dire, grazie al Signor perché tu diste la vita il nome di Gesù Cristo oh Padre bendito che tu le aiudes e riprendiamo il tuo spirito e il mondo tutte le persone del nome che è il suo nome alleluia bendito sia il paziente grazie a te lo santo alleluia perché Cristo non è limitato né per il tempo né per il spazio è stato con noi alleluia bendito sia il nome e se tu le alabas e te entregas a Dio di tutto il tuo coraggio grazie a te lo santo grazie a te lo santo a le 7 predicazione a cari del periodo delante seccion 6 seccion 4 perdon disculpe a las 11 a las 12 perdon estudio por centros equivocados a cari della nuova la nuova a Cicleros e hasta qui tambien e a las 15 30 estudio valdolos de los principios bíblicos cambio 30 también hasta qui gloria al Signor y nuestra hermana que predicò alabas al Signor nuestra hermana Lourdes por favor La nuova la nuova la nuova lauana la nuova Il nostro salvato, un refugito, noi seremo un freddo per il nostro buon passaggio. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti.